Sì, buongiorno, grazie. Una giornata importante, forse fondamentale per capire le nuove regole, perché ci sarà un confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo circa le nuove regole per i tamponi, soprattutto per la quarantena ridotta per chi ha il vaccino e per chi ha la terza dose. Siamo in compagnia del Presidente del Veneto Zaia, che abbiamo strappato da una riunione importante, ne parleremo tra poco. Presidente, il bollettino di oggi, sommato ai positivi di ieri, parla di in 48 ore 16 mila veneti positivi, soprattutto il ritorno del segno più nei ricoveri. È preoccupato? Noi siamo sempre preoccupati. Poi devo dire che ci aspettiamo ancora una crescita dei contagi. C'è da dire che l'aspetto positivo è rappresentato dal fatto che i vaccini funzionano. Oggi abbiamo contagi quotidiani che sono più del doppio del massimo dell'anno scorso, ma abbiamo un terzo di ricoverati e soprattutto sul fronte di mortalità, stiamo parlando veramente di mortalità bassa rispetto all'anno scorso quando con giornate simili al massimo arrivavamo anche a 200 morti al giorno. Detto questo non bisogna abbassare la guardia, i cittadini devono sapere che devono proteggersi, evitare gli assembramenti, evitare tutto quello che sono assembramenti che sono evitabili. Vuol dire che è inutile andare a cercare sempre occasioni di aggregazione, stare magari un po' più tranquilli a casa se si può e chi va fuori o va a un pranzo o una cena cerchi quantomeno di vedere se riesce a farsi un tampone o quant'altro. Qualcuno potrebbe dire ma il vaccino? Il vaccino funziona, ma è anche vero che il vaccinato potrebbe in via teorica portare in giro il virus e quindi è un fatto di responsabilità anche nei confronti degli altri. Presidente l'abbiamo strappata da una riunione con gli altri governatori, state decidendo insomma le vostre richieste al governo in termini di quarantena e tamponi, quali sono le richieste che partono qui da Palazzo Balbi? Sono quelle che già abbiamo annunciato, personalmente penso che fare il tampone all'inizio della quarantena e a fine quarantena e la quarantena a un bimbo perché ha avuto un compagno di classe positivo, uno può dire ma evitiamo i due tamponi e si farà la quarantena, dopodiché c'è un tema della quarantena da evitare per chi ha le tre dosi, quantomeno per chi ha la terza dose, dopodiché non le so dire cosa verrà deciso a livello nazionale, ma più o meno i colleghi sono tutti allineati con me. Anche se già qualche scienziato è apparso prudente sull'ipotesi di un liberi tutti per chi ha avuto il booster? Sì sì ma guardi, io capisco tutte le posizioni, però di tamponi noi non riusciamo a farne più, il contattressing di fatto salta o è saltato in molte regioni perché quando tu hai 8600 contagiati come in questa giornata devi fare 8600 telefonate che ti diranno che hanno avuto una decina di contatti stretti, quindi si va oltre a 90 mila persone da chiamare, ma domani è un altro giorno poi, capisce che è impossibile. Dall'altro se devo sotturare una ferita vado in sala operatoria, mascherina, disinfettante, l'antibiotico e tutto, l'antitetanica, se sono però in un campo di guerra, se c'è un po' di grappa, disinfetto con quella e cerco di tirare avanti. Siamo in una situazione di battaglia, quindi il manuale lo conosciamo tutti, ma poi bisogna fare anche l'amministrazione del possibile. Grazie al Presidente Zaia, lasciamo andare alla riunione con i suoi colleghi governatori, delle altre regioni, da Palazzo Balbi è tutto, è linea che può tornare allo studio.